ciao ciao amici benvenuti o bentornati qui sul mio canale sono il carletto e sono qui anche in questi giorni festivi pasqueli pasqueli a regalarvi una recensione che non è di questo vetto ma è di qualcosa che io come dico sempre potrebbe rientrare qui dentro perché oggi andiamo a recensire chimo del cielo il nostro chimo del cielo e lo confronteremo con la vecchia versione vedete qua bandai noi andiamo a recensire quest'oggi il sentinel scarpiamo qua vi ricordo che per voi non è che per voi più che altro non costa nulla ma per noi è fondamentale iscrivetevi al canale anche perché tante volte prendiamo delle cose apposta da farvi vedere da recensirle o le chiediamo agli amici come in questo caso che ringraziamo per le festività al massimo che ci ha gentilmente concesso questo chimo del cielo perché apposta per farveli vedere in recensione facciamo veramente tanti sacrifici ragazzi che non potete immaginare ricambiateci almeno iscrivendovi al canale che non vi costa veramente nulla e ci date la forza e la volontà di andare avanti e fare tanti sbatti che non avete neanche la più pallida idea comunque le facciamo con passione perché io adoro questo mondo e spero di trasmettervi anche un pochettino della mia passione lui è chimo del cielo dai cinque samurai che lancia queste brecce di energia vedete questa è la versione bandai già montata cosa facciamo andiamo a unboxare sentite come è venuto bene oggi unboxare anche questa versione della sentine come abbiamo fatto già per le prime due uscite vedremo come dico sempre se hanno migliorato un pochettino i materiali o i materiali rimangono quelli da ovetto kinder ovetto pasquale nel senso che sono di pessima qualità è una plastica nelle prime due uscite che era di pessima qualità vediamo se un pochettino se migliorata e poi come sempre lo confrontiamo con il nostro bandai che purtroppo ragazzi mi si è anche rotto poi dopo nel dettaglio lo farò vedere vi farò vedere che cavolo mi è successo dai andiamo a unboxare vediamo bene cosa c'è all'interno poi le montiamo solite cose eccoci qua allora partiamo subito a vedere box di kimo che ci propone sentinelle allora vedete box il cartone bello plastificato rigido le immagini diciamo guardate che belle il box è promosso è promosso questo box di kimo del cielo vedete qua samurai trooper sunrise box è carino nel complesso andiamo a vedere allora questo primo blister dove troviamo il manichino per la nostra armadura da samurai un po di mani l'arco con la freccia lo sgabellino qualche parte dei capelli lì non vedete vi ho lasciato solo questa non vedete i tre volti perché quelli sapete ve li voglio far vedere bene 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 perché sono le cose specialmente in questi sentinelle ragazzi più importanti hanno curato molto personaggio hanno preferito curare personaggio allora vi voglio far vedere questa cosa qua allora l'armatura con questo azzurro vedete si vede che plastica come dico sempre degli ovetti kinder paragonata a quelle dei nostri amici bandai dei samurai della bandai però questo azzurro rende meno evidente la cosa vedete per esempio anche l'elmo tutto sommato vedete non è niente male devo dire la verità dei tre forse il più bello guardate anche se completamente in plastica che bella la colorazione di questo sul la parte del petto frontale vedete queste parti quali in questo azzurro sono più carine sono più carine questo azzurro rispetto a quello verde che abbiamo già visto al rosso praticamente si vede meno che una plastica scarsina si vede meno e quindi l'effetto scenico secondo me su questo blu è più bello guardate adesso quello che secondo me sul quale ha puntato tanto sentine che il personaggio perché ne bandai avevamo quel problema dell'anca comunque adesso sta uscendo la nuova versione recolor che va a levare quel problema e sono stupendi per canto riguarda mandai ma sentine ha voluto curare tanto il personaggio guardate effettivamente il personaggio in sé è bello questi senti nella cosa più bella che hanno è per l'appunto il personaggio adesso vi faccio vedere che evolutamente l'avevo già levate i tre volti faccio vedere i tre volti aggiuntivi guardate il dettaglio c'è tantissimo perché come sto ribadendo sempre sentine più che all'armatura del samurai secondo me ha puntato sul fatto di rifare il personaggio perché come sappiamo i bandai avevano dei problemi soprattutto alle anche vedete sono andati comunque a rifare lo sculto il disegno lo stampo dei visi dei personaggi e il corpo dei personaggi più snodabile fatti meglio quindi ha puntato sentine non tanto sull'armatura ma sul personaggio vedete e hanno azzeccato i volti il personaggio non si può dire niente l'anno azzeccato adesso andiamo a vedere prima cosa il libretto di istruzione poi vi monto samurai lo vediamo in paragone con il bandai libretto di istruzione fatto bene come anche per alcuni versi anche meglio di quello bandai dove ci spiegano tutti pezzi che troviamo all'interno del samurai come andarli ad applicare e non si può dire niente anche per quanto riguarda il libretto fatto veramente veramente bene cosa ci fa vedere come si può piegare l'arco e posizionarlo dietro sullo suo spac zainetto diciamo così non si può veramente dire niente perché guardate il personaggio questo poi azzurro forse il più riuscito anche come colorazione per l'armatura ve l'ho mondato e montato si vede tutto tutto l'abisso che ho sempre detto adesso non guardiamo il mio ragazzi della bandai perché un po rovinato vedete qua è andato un po di colla però guardate la testa l'elma affusolato guardate qua vedete mi sembra troppo troppo tarchiatello la parte bassa della testa vedete troppo grossa rispetto a quello bandai guardate la differenza del metallo con la plastica come è evidente nell'armatura ma adesso vi voglio far vedere una cosa bandai ha curato vedete qua nell'arco è andata a coprire le giunture che sentire hanno l'ha fatto è lasciato qua vedete i ferretti vedete i ferretti che si vedono nella nell'arco di chimo vedete anche questo si può ovviamente vedete piegare ma bandai e anche chiudere completamente ma mandai andata a coprire i pernetti sembrano piccole cose ma secondo me non lo sono perché guardate il bandai secondo me come dico per tutti i samurai avere l'armatura in metallo come i nostri cavalieri è tanta roba cioè è evidente guardate la differenza tra la plastica e il metallo anche se noi li volessimo pesare che adesso non ci avevo pensato a questa cosa vediamo se trovo il bilancino ragazzi a portata di mano anche se li volessimo pesare vi faccio vedere questa cosa qua scusatemi tarriamo a zero qua per esempio il bandai siamo a 152 adesso vediamo il sentine a 66 ragazzi impressionante 6 12 18 quasi tre volte più pesante il bandai purtroppo secondo me senti nel doveva farli vedete doveva farli in metallo guardate anche che differenza qua le spalle le spalle più proporzionato guardiamo adesso non gli ho messo nel bandai guardate dietro la colorazione non gli ho messo il pacchettino qua ma comunque sia c'è secondo me ragazzi un abisso eccoci qua eccoci qua amici stiamo vedendo entrambe le versioni vedete girare sia quello di casa bandai che quello di casa sentine che dire che dire allora partiamo dal fatto che forse secondo me questo chimo del cielo dei sentinele forse il più riuscito perché perché questa azzurrino qua ci dà meno quella sensazione di plastica che ho avuto ragazzi tantissimo veramente con il samurai verde con recensione prima di questa con samurai verde come abbiamo visto la praticamente l'impressione della plastica era proprio dove to kinder qua più o meno siamo in linea però dai tutto sommato vedete questo azzurro fatto un po così ci dà meno quella sensazione io rimango sempre dell'idea che anche nonostante ci sia il problema delle anche i bandai rimangono mille volte più belli va a cambiare soltanto praticamente che risultano più belli visi dei li non posso dire niente vero i visi dei sentinele ovviamente perché sono stati fatti tantissimi anni dopo comunque guardate nel complesso è più alto è più massiccio vedete che differenza c'è proprio tra i due i bandai e più massiccio più pesante più alto poi guardate che bella questa parte metallizzata anche qua dell'elmo che come vi ho fatto vedere l'elmo è piuttosto in quello sentine e questo qua invece più metalloso più affusolato più lungo insomma mi piace come anche per le prime due uscite anche per la terza e così purtroppo dico quello che penso mi piace anche se più vecchi molto di più ragazzi i vecchi bandai di questi senti nel poi io lo dico sempre i gusti sono gusti accetto anche chi e chi mi viene a dire no guarda sono più snodabili è vero sono secondo me migliori i senti nel mio accetto anche questa cosa qua ma vedete per esempio la parte qua della gamba sentine sulla parte della ginocchia ha fatto un pezzo unico mentre bandai la diviso in due parti sono tanti accorgimenti non si vedono le viti qua sull'arco mentre in senti nel si è tutto secondo me tutto un'altra un'altra cosa poi io rimango del fatto che i gusti sono estremamente soggettivi però 32 io anche in questo caso riesco a promuovere di gran lunga il bandai anche se si porta dietro tutti i problemi che noi sappiamo noi collezionisti sappiamo e che dire che questa recensione di chimo in questo periodo pasquale che come avevo immaginato purtroppo anche questa volta quest'effetto plastica anche se meno evidente nel chimo del cielo fa rimanere il senti nel secondo me un gradino meno rispetto i bandai è vero e più posabile l'omino è più bello i visi sono più belli quelle cose lì ma quando noi lo vediamo esposto in vetrina il suo samurai con l'armatura addosso secondo me è mille volte meglio il bandai e addirittura il primo la prima edizione questa qua che io che purtroppo in chimo mi si è rotto pure il cornino l'ho dovuto incollare mi è uscito fuori il bianco por caccia di quella eva però rimane secondo me mille volte migliore il chimo bandai con questa zama ferma dal bello massic che pesa tre volte in più e da quella possenza anche poi questo metallizzato mi piace mi piace mi piace mi piace ringrazio il massimo anche per questa recensione che spero di far uscire nei giorni nelle festività pasquali quindi vi faccio gli auguri a tutti se riesco a fare questa super cosa di farlo uscire nelle festività pasquali e lui rimane la sorpresina che comunque costa veramente un botto di soldi e non riesco a capire perché lui rimane la sorpresina kinder e lui e rimane secondo me il pezzo da 90 da mettere in collezione in vetrina saluto dal carletto mi raccomando che per voi a voi non costa niente per me è fondamentale iscrivetevi al canale buone feste comunque già detto se riesco a far uscire questo video durante le feste attivate la campanellina così vi arrivano tutte le mie notifiche e soprattutto un bel like anche al video se vi è piaciuto iscrivetevi ciao